namaste eccoci qua ho appena finito una splendida e intensa classe allora terzo appuntamento dov'è che facciamo quello che facciamo buona domanda grazie per l'avella fatta allora visto che come ho detto mille mila volte non siamo uno stile quindi non facciamo una cosa siamo un approccio allo studio quindi il nostro campo di possibilità che è una parola a cui tengo molto è estremamente ampio vuol dire che portiamo questo approccio allo studio a volte in una lezione un pochino più intensa dal punto di vista fisico o anche molto intensa altre volte portiamo questo approccio verso qualcosa di più intimo più interiore profondo fino ovviamente alla parte meditativa allora per la lezione fisica in presenza questo anno siamo all'istituto volpicelli a via 20 settembre quindi ti invito a venirci a trovare il lunedì e mercoledì alle ore 20 e 15 istituto volpicelli lavora dal bacino sali su sali su sali su immagina di avere un muro dietro non andare col busto vai col bacino prima mentre invece siamo al centro turià a via della mendola corso francia per dire roma nord per la parte quasi diciamo media si lavora fisicamente si va assolutamente sulla parte interiore e questa è alle ore 20 del martedì e del giovedì allo stesso tempo facciamo la lezione online quindi la stessa lezione viene trasmessa live per chi vuole seguirci online soprattutto in questo periodo io non sono un amante dell'online però devo dire che in questo periodo ci sta salvando e garantisce una continuità della pratica per quanto riguarda l'online stiamo attivando anche altri corsi specifici quindi mantieniti in contatto perché ci saranno belle novità va bene yoga destrutturato volpicelli 20 e 15 via 20 settembre lunedì e mercoledì centro turià a via della mendola martedì e giovedì ore 20 online ore 20 prossimi appuntamenti specifici a seguire faremo meditazione faremo qualcosa di introduttivo fondamentale perché tutto quello che facciamo non è esattamente come viene fatto quindi uno dei miei maestri diceva it may look the same but it ain't sembra la stessa cosa ma decisamente non lo è ti aspetto namaste grazie a tutti